Sabato, al nord l'anticiclone africano Minosse perde ancora di potenza e così in giornata scoppieranno temporali con grandine in montagna e in discesa serale notturna sulle pianure. Domenica, una goccia fredda in quota genera una diffusa instabilità su gran parte delle regioni dove ci saranno rovesci e temporali a carattere irregolare, ma anche molto forti. Al centro, anticiclone Minosse ben presente, ma con il caldo mitigato dai venti settentrionali. Cielo sereno su tutte le regioni e temperature massime fino a 31 gradi sul Lazio. Domenica, la pressione è in calo, ma il tempo sarà in prevalenza asciutto anche se ci saranno molte nubi, soltanto in Toscana e Umbria, nel pomeriggio, potranno esserci dei temporali. Al sud, presenza costante dell'anticiclone Minosse. Giornata con un ampio soleggiamento ovunque e temperature massime in contenuta diminuzione, picchi di 36 gradi solo in Puglia. Domenica, la pressione è in diminuzione e soffiano venti da nord che mitigheranno il caldo. Giornata con condizioni di bel tempo e cielo sereno. Temperature in diminuzione. Domenica, la pressione è in minima.